Siamo con il senatore Liris oggi per parlare di CAR-T. Ecco, terapie avanzate contro il cancro possono rappresentare un'opportunità importante per i pazienti. Che cosa può fare la politica? La politica può assumere consapevolezza di quello che è il nuovo ruolo della scienza, della tecnologia che va velocissima e va interpretata, controllata, guidata anche dal sistema legislativo che paradossalmente è più lento. Quindi sono più lente le carte prodotte dalla politica e di questo dobbiamo farne ammenda rispetto ai progressi scientifici anche impattanti in termini di rivoluzione quasi di approccio a determinate terapie, in particolar modo quelle in ambito oncologico. sia le CAR-T sia Genica in generale. Noi abbiamo delle possibilità importanti che hanno un impatto grande in una fase iniziale ma che se misurate in termini prospettiche, in termini di prospettiva di risparmio, di gestione della qualità di vita, di appropriatezza dei sistemi sanitari attuali o futuri, la costruzione di paradigmi che debbano riuscire a trasformare l'attuale spesa corrente. Così viene vista in ambito sanitario la spesa su alcune terapie, farmaci innovativi, terapie innovative, la trasformazione in investimenti, quindi un approccio che debba vedere tanto la sanità quanto la misurazione economica della sanità da parte del BEF e delle ragioni dello Stato. cambiare il paradigma e trasformare la spesa corrente in investimenti è bene questo tipo di approccio. Può essere la rivoluzione che parta proprio dall'Italia, come un sistema Italia che diventi sistema Europa e che possa essere maggiormente competitivo e performante rispetto ad una fotografia della popolazione italiana che è diversa rispetto a quella di 20, 30, 40 anni fa. Il sistema sanitario, la misurazione dello stesso che oggi abbiamo in Italia, non è più competitivo, non è più al passo con i tempi rispetto a una popolazione che è diversa oggi. Il paziente medio e la popolazione di riferimento a cui la sanità e lo Stato devono erogare servizi è diversa rispetto a quella di 40 anni, 50 anni fa e il fatto di avere oggi delle regole scritte in piani sanitari e in parte non applicate ma comunque già vecchie non aiuta nel poter portare un modello nuovo, ripeto, di riferimento al cospetto di un'Europa che ha bisogno di misurazioni credibili. Quindi best practice subito a livello di sistema sanitario nazionale. Territorio che faccia veramente il proprio compito a ricominciare dai medici di medicina generale come registi di un mondo extra ospedaliero che quantomeno procuri risparmi importanti o eviti spese inappropriate per poter poi andare, coinvolgere o direzionare spese o risparmi di spese inappropriate proprio verso terapie innovative e poi andare con i compiti fatti rispetto alle regole attuali del gioco, compiti fatti in maniera di best practice, andarci a presentare in maniera credibile, affidabile in Europa e andare ad apportare, a cercare di coinvolgere gli altri ministeri dei nostri partners europei in una nuova visione, coinvolgere in una nuova visione, magari il G7 può essere un'occasione, magari andare oltre le europee che è sempre un momento quello delle elezioni in cui alcuni argomenti vengono ideologizzati, la sanità non dovrebbe essere ma molto spesso viene ideologizzata e diventa elemento di scontro e di speculazione politica, ma dopo le europee in un momento di calma istituzionale, di calma elettorale e in un momento in cui il governo Meloni aspira ad essere governo di legislatura, proprio l'Italia, il Ministero della Sanità, ma non soltanto il Ministero della Sanità, ma con a fianco un sistema paese che si adegui alla nuova visione, può essere il fattore, il paese traenante rispetto ad un ambito di erogazione nuova della sanità, di misurazione e di erogazione nuova della sanità che può fare la rivoluzione a livello mondiale su ambiti, quello delle terapie innovative, farmaci innovativi, CAR-T e terapie igieniche, che possono essere non soltanto un risparmio prospettico a 10-15 anni per quanto riguarda i nostri sistemi sanitari e possano garantire la sostenibilità non nell'immediato, non nell'annualità in corso, ma in prospettiva su tempi di latenza più lunghi, ma possano essere rivoluzionari in termini di qualità di vita. Oggi la spesa per un paziente oncologico è altissima, l'occupazione in un posto letto è altissima, l'implicazione e la contaminazione anche dei sistemi attorno al paziente è molto forte, i caregiver e comunque gli ambiti che stanno attorno al paziente sono coinvolti in un disagio di vita, di socialità che non è misurata in questo momento, probabilmente va misurato l'impatto oggi in maniera differente per poter poi rappresentare in maniera credibile il risparmio in prospettiva. Credo vada cambiato tutto il paradigma di misurazione della sanità, ma anche il paradigma della misurazione delle terapie, proprio perché quando si interviene non si interviene soltanto sul paziente, ma si interviene su un contesto sociale. Credo che rimettere al centro il paziente e non andare a guardare soltanto i saldi di bilancio possa essere decisivo per andare a guidare questa rivoluzione a livello europeo. Credo che rimettere al centro il paziente e non andare a guardare soltanto i saldi di bilancio